E questa mia generazione ormai non crede, di ciò che è spessa a maschera dopo alla tele, e di genere della patene dell'olio, perché è venuta ormai il momento di legare tutto ciò che falsità, le sei fatte mi dà di un'idea paura, con l'asso dei partiti, io ho marco, io penso, che questa mia generazione è preparata, al mondo nuovo è una speranza tenata, ad un futuro che ha in mano, a una rivolta senza armi, e tutto ormai sappiamo, che se il mondo è un'idea paura, e non è un'idea paura, vincione o ne crediamo di risorso, vincione o ne vogliamo di risorso, e nel mondo che faremo, di risorso, di risorso, di risorso, di risorso, che la protezione è un'idea paura, di risorso, di risorso, che la soli è una vecchia, e nel mondo è un'idea paura, di risorso, e nel mondo è un'idea paura, Umbra la mano, sono qua, e finito del sudore, che è la gomma. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La luce più abbagliante di quel sole esplosano in uniscante. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa è una cartolina di tipo quelle che si mandano... Questa è una cartolina di tipo... ...con l'eropio... ...con l'eropio... ...unico che mi sta... ...se a frattura non può essere l'età... ...poi... ...e quel bambino che... ...un deserto mi sembrava la città... ...un paolo che ne sa... ...un paolo che ne sa... ...il proprio di un cammino... ...il proprio di un cammino... ...non è caldo come il sole... ...e... ...e... ...i... 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 ...i...